salve a tutti e ben ritrovati con cittadini dell'ultuan allora vedrei sostanzialmente oggi vedremo se il video che avevo pubblicato era esatto con le statistiche tutto ovviamente questa volta non è reaction nuda e cruda ma l'ho già guardato il video per segnarmi il minotaggio come l'altra volta c'è lo showcase e sostanzialmente quello che andremo a fare è una sorta di reaction contenuti aggiuntivi cioè quello che so ve lo dirò sul video di presentazione di turn of decay per la sezione di impero e quindi di elspeth nel caso vogliate vedervi il video per intero e io come al solito ve lo consiglio anche se in lingua inglese ve lo godete tranquillamente basta andare sul canale di total war è molto bello ovviamente io qui non lo faccio andare tutto perché perché ci soffermiamo sulle cose più importanti perché sennò quanto dura il video quello che aggiungo io vi sequestro per 40 minuti detto questo passo anche con qualche news interessante e sono state aperte anche la pagina facebook e instagram quindi se volete rimanere aggiornati all'ultimo secondo qualche contenuto piccolino magari qualche patch piccola se ne discute lì qualche storia qualche qualche aggiornamento la sminuta bilanciamento delle regole e tutto lo trovate lì quindi sostanzialmente avete un altro hub in cui si può parlare e chiacchierare e non solo sono diventato partner di youtube quindi per chi volesse disponibile abbonarsi i piani sono due li ho fatti molto piccoli i più piccoli che c'erano e al momento le ricompense penso che siano interessanti se qualcuno ha qualche proposta può sicuramente scrivermelo nei commenti o su instagram e su facebook e si può vedere l'unica cosa che vi dico è sapete se i video vi piacciono e volete contribuire gli abbonamenti sono lì e semplicemente servono per aumentare la qualità del canale come banalmente arrivare a prendere una webcam prendere magari i dlc per i contenuti magari qualche gioco qualche altro gioco in futuro oltre a wear hammer per cioè alla fine quello che io ricavo metterlo in paglio come montepremi per i tornei che organizzo quindi tutte queste cose qui come come vedete non pensa di scappare in svizzera con quella cosa lì quindi chi ha la possibilità e chi ha voglia trovate tutto in descrizione sulla pagina del canale sarebbe un grosso aiuto piccola aggiunta post mi sono accolto che mentre resistavo non vi ho fatto vedere le due starting point di allora questo è nell'immortal empire quindi come vedete parte direi a null ma lo si è visto anche nella nel trailer mentre sulla realm of chaos parte qui in basso allora se non sbaglio dovrebbe essere immagino sempre null sì perché viene un po deformata la mappa in realm of chaos comunque queste sono le due starting point ecco qui buon proseguimento col video detto questo banda alle ciance iniziamo allora andiamo subito a 2 22 ribadisco voi fareste bene a vedervelo per intero andiamo a 2 22 con calma allora breve recap ci ha fatto vedere che balthasar parte dal catai come vi avevo detto e quindi poi ci sono nel video che abbiamo già fatto andate a voler recuperare i cambiamenti per balthasar e per kalfranz che sono spettacolari quindi il video andatevelo recuperare detto questo entriamo all'imperial gunner quindi che è una meccanica di fazione specifica solo per elspeth molto carina quindi la si apre dal menu dalla campagna come vedete ci sono tutta una serie di unità che tra l'altro sono molto carina perché sembrano dei bozzetti dei bozzetti delle armi e sostanzialmente abbiamo diversi livelli quindi diversi livelli credo che non cambino le unità credo che cambino credo che cambino le unità scusate e vi dice anche tutte le unità che vengono affette molto carina come cosa sempre utile e vi dice con il primo livello che cosa sbloccate per potenziarli avete bisogno dei progetti progetti che si sbloccano durante le battaglie e quando usate le unità è molto carina come se faceste ricerca sul campo come vedete le ricerche hanno costo molto alto ma vi danno dei bei dei bei buff alle unità standard ovviamente considerate che nulla nella lore è la fonderia e la fucina imperiale e quindi sono tutte unità con armi da fuoco per rimanere sempre su questo tema qui vorrei andare a 7,38 7,37 come vedete sale di livello e si sbloccano anche altri potenziamenti anche qui qui diventano sempre più forti c'è reload time ammunition missile strength molto interessante ma c'è una feature questa è l'imperial armory andiamo a vedere adesso dove ci fa switchare allora sostanzialmente questa è molto carina come cosa perché vedete che ci sono delle unità specifiche amethyst iron side il lancia granate amethyst questo qui che credo che sia una delle unità più rotte del gioco amethyst e adesso andiamo a vederlo vedete che qua costano molto i potenziamenti cioè vedete costano sia per essere reclutate che per fare l'upgrade è una cosa molto carina perché io che credo che queste unità siano molto belle molto tematiche sono esclusive per la campagna quindi non preoccupatevi non dovrebbero esserci multiplayer credo che siano come le unità di come si chiama quello degli alti elfi vabbè sono unità esclusive della campagna costano tanto per aumentare lo slot di reclutamento e il potenziamento come vedete 1000 1250 tanta 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 roba e l'amethyst artillery può avere delle abilità speciali tra l'altro credo che siano utilizzabili una volta sola cioè come se voi creaste un proiettile perché qui scrivere stock quindi vi ricreerà probabilmente quella munizione lì che è una cosa molto carina questa roba qui mi è sembrata devastante andate a vedere i video perché vedete delle robe se tipo spara artiglieria che spara su una zona del nemico i colpi esplodono e creano dei purple sun dove sono esplosi dappertutto cioè uno spettacolo credo che in campagna sia veramente roba divertente se non fuori di cervello non credo che sta roba qui sia bilanciabile cioè in campagna quando l'avete probabilmente fate i buchi nei muri senza problemi andiamo a vedere se ci ah ecco vedete army ability bombardment uso 1 quindi si restock ma è distruttivo è veramente veramente uno spettacolo da vedere costa tanto come vedete una volta che l'avete cliccato lo avete vediamo oh ecco vedete guardate sparano boom madonna ok questo è il lato più divertente della cosa detto questo abbiamo parlato dell'armory dell'armeria torniamo a 3.45 vi dico anche il minutaggio così potete andarvelo a cercare anche voi dopo se volete andare a vedere il video voilà non iron side erano quelli che avevamo visto non starò qui a dilungarmi tanto la misera strength di 31 è molto carina l'armatura di 60 non mi fa impazzire le statistiche non sono malissimo sono curioso di vederlo come performerà perché in campagna sono sostanzialmente la versione più potente dei fucilieri che già avete in multiplayer bisogna vedere perché è vero che è molto più danno ma bisogna vedere anche quanto costano perché sapete che in campagna è tutto un costo beneficio ok poi a questo punto andiamo a vedere l'altro cucilazzo visto che già ci siamo vediamo se ci da qualcosa no ok prende in giro vabbè ci vediamo un cin 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 Splatica ok oclean long rifle questi sono molto interessanti hanno tanto range al mid range che serviva impero e 34 missili strength quindi fanno dei bei danni secondo me sono inferiori rispetto a i Zezail Skaven o quelli di Katai per il semplice fatto che non hanno scudo e hanno pochissima armatura tra l'altro questi però nel roster imperiale servivano quindi se quegli altri costano un migliaio di gold questi mi aspetto che costino meno meno e se costano parecchio meno potrebbero diventare interessanti, è vero che normalmente lo scudolo si paga 50-100 gold se gli altri costano 1000, questi costano 900 cominciano ad essere interessanti, se costano tra gli 800 e gli 850 sono molto molto poco cari, diventano interessanti un bel po' poi torniamo a una meccanica di campagna nuova la Nemesis Crown allora, questo è sostanzialmente un'aggiunta per tutti quindi qualunque fazione può ottenerla da quello che ho capito come la spada di Kane quindi mentre la spada di Kane era per la zona del nuovo mondo questa sarà per la zona del vecchio curiosità sarà se aggiungeranno poi un oggettino anche per la zona di Katai magari qualcosa legato a Nagash visto che laggiù in basso qualcosa di Nagash c'è non lo so se ne riparlerai quando ci sarà un DLC a tema Nagash la Nemesis Crown che è sostanzialmente un oggetto che voi sbloccate con delle missioni che vi dà buff e debuff andiamo a vederli tra l'altro molto carina questa cosa qui che hanno aggiunto un ulteriore vedetele andate sulla zona della Nemesis Crown qua ci ha sparato ok Nemesis Crown che finiamo di vedere dopo bene finiamo di vedere a 7.35 vi faccio vedere un po' cosa fa allora ecco qua come vedete ha tantissime abilità aumenta la Weapon Strength la Missile Strength è interessante perché vi dà la penalità in questo caso è presa da Elspeth quindi ovviamente vi dà relazioni con tutte le fazioni imperiali ma ve la toglie con tutte le altre è una cosa molto molto carina perché voi magari all'inizio che comunque l'impero ha parecchie fazioni imperiali intorno potete usarvi questa tanto le fazioni che non sono imperiali sono sicuramente nemiche come i vampiri la la deriade dei boschi che è sempre in quella zona lì quindi ci sta vi prendete il malus ma aumentate le relazioni con impero vi beccate i buff poi in late game quando avete già confederato parecchia roba imperiale potete toglierla vendervela banalmente come vedete qui ovviamente ci sono livelli quindi aumentano i livelli dei buff e dei debuff e aumenta anche il livello cioè i soldi per cui la vendete quando non la volete più è molto carina come come meccanica sono curioso di vedere quanto impatterà poi sulla fazione la gestione di questa roba qui se la prendiamo e a questo punto torniamo con la seconda meccanica di campagna qui va a prendere Nemesis Crown adesso vediamo che c'è questo tastino della rosa Garden of More questo è quello che abbiamo visto nel video precedente ovvero potete costruire i giardini nei territori di altre fazioni imperiali vi daranno tutta una serie di bonus come che potete scegliere voi in base a che tipo di giardino costruite quindi reclutare immunità ovviamente immunità da attraversare quel territorio la possibilità di teletrasportarvi in quel posto quindi molto molto carino qui lo vediamo vedete costruisce hopla e questo è il livello basic è il livello 1 black tower credo che sia quello che vi da il teletrasporto esatto infatti qua si è teletrasportata molto carina come cosa possibilità di costruire tre diversi scusate tre tre diversi insediamenti questo per esempio vi da meno upkeep reclutamento globale più reclutamento globale tutta una serie di reclutamento cioè comunque reclutare degli engunners degli albadieri degli empire knight dei knights of black rose in in territorio che non è vostro è ottimo permette di sostanzialmente combattere i nemici dell'impero ricevendo supporto anche dagli altri conti elettori senza essere Carl Franz e tutto il resto vediamo se ci fa vedere ok vedete questo per esempio ci da più replenishment ci fa evocare ci fa reclutare i knight of more come truppe del conto elettore perdita di vigore meno corruzione vediamo se ci fa vedere l'ultimo l'ultimo ci permette di reclutare maghi della metista ovviamente maghi della morte adesso torniamo a vedere un po' di unità allora qua abbiamo il master engineer che come vedete è armato di granata boom ha appena bombardato qua secondo me è più interessante quando è montato probabilmente un lord chip che può essere molto interessante in alcune particolari liste proprio perché ha lanza granate secondo me la versione più bella e più impattante può essere quella su steam tank steam tank perché avete lo steam tank che è fortissimo contro la fanteria con lui montato con lanza granate sopra diventa il distruttore finale di qualsiasi esercito si porti un filo troppo fanteria poco dopo vediamo abbiamo anche vediamo se ce lo fa vedere dov'è l'ingegnere normale opla ingegnere normale che tra l'altro vediamo con la mount meccanica molto bello lo può avere anche il master ingegnere lui invece può avere cavallo o cavallo meccanico il master ingegnere può avere anche lo steam tank lui sostanzialmente forse mi piace di più proprio perché è un eroe un gran cecchino molto buono bisognerà vedere come funziona questo fucile qui perché in realtà funziona come quello delle staffette ma le staffette sono non si le staffette le staffette sono state reworkate è molto carino il rework dovrebbero sparare molto più a raffica e quindi lui dovrebbe fare altrettanto in più ha un'abilità che ne abbiamo già parlato nel video scorso un'abilità che spara come dritto fa tipo a raggio laser mentre il master ingegnere spara con i piccioni eccolo vedete come spara tutto 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 questo qui era mercurial shot eccolo bello l'avete visto detto questo passiamo all'eroe leggendario leggendario vabbè lo vedremo qui caricare oppla eccolo qua corsa la baywatch proprio sostanzialmente lui l'abbiamo già affrontato nel video scorso non ci sono le statistiche quando è su grifone secondo me otterrà armor pierce in questa schermata qui armor piercing in quella vecchia no interessante interessante ok quindi a p anche a piedi questo cambia molte cose perché questo qui è un cacciatore di character e avendo ap diventa molto interessante e può essere montato su demigrifone è l'unico eroe che può essere montato su demigrifone cosa molto carina mi sarebbe piaciuta forse la introducessero anche non tanto per gli eroi generici dell'impero ma per il lo generico credo che sia l'empire general all'empire general su demigrifone sarebbe carino ci potrebbe stare è un lord in realtà che fa schifo sempre comunque speriamo almeno graficamente l'abbiano reworkato perché è un po' bruttino comunque è molto forte ha delle abilità una che sostanzialmente è come le lanza di Imerich ma con due usi poi ha un debuff alla leadership un ghi dovrebbe dargli un tot in meno vediamo se lo fa vedere no ok poi ha un oggetto particolare che è un amuleto che quando lui muore esplode e fa danno tutto intorno fa anche un buona quantità di danni poi c'ha un'abilità che debuffa all'avversario quindi adesso andiamo a 10 15 andiamo a vederci la mia unità preferita qui come vedete c'è di nuovo il coso diametista 10 15 10 15 tocca andare un po' avanti hopla eccoli qua sono fantastici sia come modello che come funzionamento hanno immunità alla psicologia anti infantry 50 mili defense 39 mili attack molto belli 120 armatura scuto di bronzo costano mi sembra 1200 gold diciamo che vanno a cannibalizzare un po' quelli che sono i come si chiamano la regsguard a cavallo che spero che a questo punto magari modifichino in qualche modo perché è vero che la rexguard costa 50 gold in meno però questi hanno immunità alla psicologia che è molto utile soprattutto per quello che deve affrontare impero in campagna in multiplayer è utile e basta il fatto che siano anti infantry può essere carino gli permette magari di dare un po' meglio contro le fanterie magari soprattutto le lance non tanto le alabande le lance perché comunque avendo 120 armor magari delle lancette low tire fanno fatica a fargli danno cioè 120 armor 50 mili defense questi un'altra degli altri lancieri imperiali li caricano tranquillamente e li sciolgono secondo me perdono parecchio charge bonus ma ci sta sono cav che fate per rimanere in corpo a corpo e sono la mia unità preferita al momento c'è poco da fare andiamo a 10 e 40 e ci becchiamo il nuovo steam tank col cannonecino ripetizione allora vabbè ovviamente è un carro è api e anti infantry ha scudo d'oro sul fronte in più prende praticamente zero danno sul fronte pochissimo danno sui lati qualcosina sul retro quindi quando gli sparate con le unità da tiro non gli fanno danno proprio se invece gli sparate con la telleria prende parecchio danno qui vediamo che è ancora perfect vigor quindi non l'aveva perso sono curioso perché sono cambiate le statistiche c'è alcune cose da quello che avevo visto da adesso avevo visto anche delle discussioni dove si diceva che aveva perso perfect vigor quindi tantissima roba se è ancora perfect vigor è una figata questo causa terrore prende danno da cav e da single entities va usato contro le fanterie decisamente quello col cannone con il cannone doppio è fantastico è un'unità che meritava questo tipo di amore andiamo a vedere a 11 a parte il fatto che come viene presentata è bellissima se si vede la nave così che scorre cioè sti trailer sono un capolavoro ragazzi andateveli a recuperare sul canale di Total War perché sono veramente veramente belli il tuo cannone è simpatico ma io vorrei vedere le statistiche che avevo a 11 vediamo eccole qua prende in giro ok hopla allora ha l'abilità che esplode se non sbaglio è unbreakable ha parecchia missus strength e parecchia weapon strength un buon un buon discreto quantitativo di range un sacco di munizioni io non credo che queste 150 siano del cannone credo che siano delle armi sopra quindi dei fucilieri questi qua sopra hanno un fucile a ripetizione poi c'è un altro cristiano su sull'albero che ha un fucile anche lui quindi questa sparacchia da morire sarà interessante vedere quanto ha di massa perchè comunque ha 55 speed come warwagon come detto nel video precedente a me sembra tanto un warwagon gigante single entities questa non ha perfect vigor l'armor non è altissima la milli defense è bassissima però sostanzialmente questa dovete tenerla costantemente in movimento ci fate un po' di scambio di attiglieria all'inizio e poi ci fate quello che dovete fare passando in mezzo ad alta roba l'ultima cosa che vi faccio vedere è quest'unità qui che io non vedo l'ora di provare in campagna perchè sono curioso di vedere cosa fa questa qui perché cioè ha di tutto ha veramente di tutto come statistica attacco magico weapon strength aumentata delle altre abilità che adesso dovrò andare a vedere se riuscirò a recuperarle scudo che l'altro non aveva quindi ha tipo uno scudo intorno a sé è un amethyst unit quindi sarà disponibile soltanto in in coso in campagna ci sono anche i null nironside versione amethyst che hanno il fucile a ripetizione il modello è spettacolare cioè è quasi un peccato che siano unità che sono disponibili solo per la campagna io qui le vedo viola ma non sono reggimenti della fama credo che siano cioè almeno tra i reggimenti della fama non li abbiamo visti quindi non verranno usati in multiplayer però le skin sono spettacolari mamma mia ho preso questo ad esempio per farvi vedere anche gli altri sostanzialmente il video è finito qui io vi mando a recuperare quello precedente se volete vedere anche i vari rework che ha subito Karl Franz e l'altro il rework d'impero è molto molto grosso e molto valido questa fazione qui a me piace molto devo dire che trovo sempre quasi un peccato che queste unità siano solo per la campagna capisco che siano per raggiungere contenuto alla campagna e che magari queste robe qui non sono bilanciabili in multiplayer ma le vedo sempre un po' tra virgolette come un'occasione sprecata di poterle introdurre bilanciandole nel roster imperiale le modifiche non sono state troppe rispetto a quello che avevo avuto dai leak del video scorso ma cambiano tanto perché lui si prende armor piercing e Warwagon ha il coso perfect vigor che vuol dire che le sue statistiche non scendono mai detto questo io vi invito a farmi sapere giù nei commenti che ne pensate di questa cosa qui se giocherete impero come prima campagna se giocherete elspeth se giocherete cal france se giocherete quell'altro che si è trasferito in katai per fare l'erasmus e poi come al solito vi invito di lasciare un mi piace un commento e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le news e su tutti i contenuti che porto ricordo ancora che sono state aperte le pagine instagram e facebook trovate anche quelle giù di sotto nei link o su o sul canale c'è mostra tutti i link trovate quelli insieme al gruppo discord dove vi consiglio comunque di entrare in modo che così quando inizierà a parlarsi del torneo che organizzerò lì potrete fare le domande essere accoppiati nel caso con i vari giocatori avere comunque le informazioni prima e trovare altri giocatori con cui allenarvi con cui testare le build e tutto come al solito e come vedete anche di solito dai bannerini che compaiono sono partner anche di instant gaming non solo di youtube e sostanzialmente con il link di instant gaming che trovate in descrizione se voi prendete qualcosa banalmente questo dlc qui voi lo pagate uguale nel senso che instant gaming vi fa già uno sconto rispetto a steam e una piccola parte instant gaming mi dà una pacca sulla spalla e dovrebbe restituirmela molto piccola quindi non preoccupatevi e a voi non costa assolutamente niente anzi risparmiate sul dlc detto questo io ho finito con tutte le manfrine mi scuso per avervi trattenuto così tanto spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao